Silvia Sicuri, Vittorio Bissaro, neocampioni italiani, NACRA 17, siamo qui a Napoli, vi vedo ovviamente sorridenti, più che altro perché è stata una bella giornata di vela oggi, vero? Sì, è stato molto bello, abbiamo partito all'inizio del campionato che non c'era vento, molto caldo, quindi veramente fisicamente provante nonostante non ci muovavamo dalla sedia e dall'ombra e invece sia ieri che oggi abbiamo avuto un bel vento steso e ci siamo davvero divertiti. Regatare nel golfo in Napoli tra l'altro credo che faccia un effetto particolare, magari a chi è abituato a regatare in campi di regata meravigliosi però con dietro poco? Sì, sicuramente questa trasferta lascerà tanti segni per noi tra cui appunto quello che si vede quando si prendono i riferimenti a terra nelle partenze, dove stiamo puntando, stiamo puntando il Vesuvio, stiamo puntando, quindi capri, isole bellissime intorno, quindi sì, molto molto bello tutto lo scenario e siamo contenti di essere venuti qui. Grazie.